Che cosa diavolo è? Un taxi, Marty! Un taxi? Ma come sarebbe? Io credevo che volassi! Precisamente! Va bene, Doc, che sta succedendo? Dove siamo? Quando siamo? Stiamo scendendo verso Hill Valley, California! Sono le 16.29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015! 2015? Vuoi dire... Che siamo nel futuro! Il futuro? Ma che dici? Come possiamo essere? Come potete vedere nel futuro? Jennifer, non so come spiegartelo, ma... Sei in una macchina del tempo!